ciao a tutti benvenuti nuovo video per la serie affitti brevi in 30 giorni prima di iniziare vi chiedo una grossissima cortesia visto che vi sto dando un contenuto gratuito di altissimo valore ed è di iscrivervi al canale e mettere un bel mi piace al termine del video ho un regalo per voi quest'oggi andremo a capire come calcolare il giusto prezzo per il tuo immobile in affitti brevi tante persone dicono ma io voglio 100 euro a notte e mettono 100 euro a notte sbagliatissimo perché magari quell'immobile potrebbe andare tranquillamente per le oscillazioni di mercato attuali a 150 euro a notte oppure il prezzo giusto per riempire il massimo delle notti disponibili potrebbe essere di 95 euro a notte quindi è importantissimo capire come settare il giusto prezzo sulle piattaforme di affitti brevi il prezzo è una componente fondamentale della nostra strategia a livello di business perché bene o male le notti sono 365 all'anno e noi possiamo affittare quella notte massimo ad una persona o comunque ad un nucleo di persone quindi deve essere assolutamente impostato il miglior prezzo possibile perché se sto svendendo la mia stanza quei soldi non li recupererò mai più è un'opportunità persa dall'altra parte se un prezzo troppo alto e nessuno prenota anche lì è un'opportunità persa quindi è indispensabile essere consapevoli di qual è il prezzo giusto al quale affittare riassumendo se l'affitto ad un prezzo troppo basso stai perdendo soldi se l'affitto ad un prezzo troppo alto nessuno te la prenota e stai perdendo soldi quindi vi rendete conto che è fondamentale avere il giusto pricing e la giusta formazione per impostare questo pricing un po di tempo fa ho realizzato una live completamente gratuita una consulenza di gruppo per chi mi segue su instagram e al proposito iscriviti al mio instagram per non perderti future iniziative come questa e all'interno di questa live abbiamo trattato questo tema che ovviamente all'interno di bmb academy viene analizzato con ore e ore e ore di lezioni analizziamo veramente il tutto per filo e per segno ma se vuoi una piccola introduzione ti lascio qui subito dopo questa clip un estratto di questa live che abbiamo fatto dove spiego appunto come vado ad analizzare il prezzo quali sono i tool che utilizziamo il perché eccetera 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 buona visione quello che noi facciamo che poi ci siamo evoluti in maniera totalmente onesta all'inizio cosa facevo io andavo su airbnb e facevo una media dei prezzi quindi dicevo ok immobili simili al mio fingiamo che sia un bilocale boh fingiamo che sia un bilocale bilocali con caratteristiche simili a che prezzo vanno caratteristiche simili significa stesso numero di posti letto stesso numero di bagni che a grandi linee sono equiparabili perché poi il bilocale può essere bilocale con gli affreschi sul soffitto e il bilocale ha redato Ikea allora a quel punto non sono paragonabili o se io ho il bilocale con vista su cupola di San Pietro è una cosa se ho un bilocale normalissimo un'altra quindi è importante capire che comunque ci sono delle sfaccettature importanti legate al singolo immobile detto ciò se gli immobili sono appunto equiparabili andavo a fare una media di quello che facevano i competitor quindi impostavo tutti i filtri su airbnb di locale quattro posti letto con il divano letto un bagno smart tv aria condizionata e vedo che caspita effettivamente i miei competitor fanno queste cifre però tu parti svantaggiato perché non hai le recensioni quindi devi essere un po più accattivante agli occhi del tuo potenziale ospite e quindi fai un prezzo sensibilmente minore fino a che non raccogli un quantitativo decente di recensioni che per me è cinque dalla quinta recensione inizi ad alzare un po il prezzo fino a che non arrivi anche a distinguerti magari dalla concorrenza e questa è un'altra cosa molto importante da fare ovvero se ad esempio i tuoi competitor hanno delle recensioni negative dove viene evidenziato la rumorosità dell'immobile tu cosa devi fare devi puntare invece sulla silenziosità sperando che anche il tuo sia chiaramente silenzioso se un immobile rumoroso sarebbe una truffa quella di dire una cosa del genere però è importante secondo me puntare al compensare i disagi che hanno avuto gli altri negli altri bmb perché se io lo dico faccio una ricerca lì a roma e leggo questo bmb era rumoroso quello era rumoroso quello era rumoroso e poi ne leggo uno che mi dice il mio è silenzioso spicca ancora di più questa cosa quindi non è solo questione di controllare i prezzi ma anche cercare di differenziarsi dalla concorrenza e offrire qualcosa che gli altri non offre però questo è quello che faceva fino a tempo fa lato prezzi quindi lato ovviamente cerco di migliorare laddove i miei competitor sono deboli ovviamente quello lo faccio e lo farò per sempre perché è importantissimo distinguersi dalla concorrenza però lato prezzi poi ci siamo evoluti abbiamo iniziato a utilizzare un piccolo plugin di google chrome che si chiamava bmb track report che prendeva questi dati di airbnb li aggregava sotto un'unica finestra molto rapido da utilizzare molto funzionale ma molto basilare e invece a partire da dicembre 2023 abbiamo sviluppato proprio abbiamo lanciato lo sviluppo iniziato ben prima un nostro software che si chiama badly go che vi faccio vedere al volo vi condivido un attimo lo schermo che non è un semplice software per la ricerca di mercato ma è una vera e propria super app mi piace chiamarla per i property manager e gli host quindi è un'app dalla quale fai tantissime cose e saranno queste cose sempre di più andando avanti nel tempo tantissime cose che ti aiutano nel lavoro quotidiano quindi la ricerca di mercato capire che prezzi mettere creare dei report per convincere i proprietari a darti in gestione all'immobile stiamo lavorando per aggiungere l'invio automatico delle schedine ad alloggiati web farà il business plan adesso stiamo rilasciando l'analisi anche su booking che quasi nessun software di ricerca di mercato fa insomma diventa un po come oggi tu entri su google e c'hai gmail google drive google fogli google documenti da un punto tu accedi a tutto badly go ha l'obiettivo di diventare la stessa cosa cioè tu ti scarichi questo software e fai tutto gestisci il team le pronotazioni e cavoli vari adesso intanto faccio il login e vi faccio vedere ad esempio se mi scrivi la via del tuo immobile ti regalo praticamente live una ricerca di mercato pur non avendo tool software ecco via candia a roma io vi condivido lo schermo e vi faccio vedere io ho un display molto allungato quindi se non si vede bene ditemelo ma dovrebbe vedersi bene comunque via candia roma i dati li prende direttamente da airbnb in questo momento poi manca pochissimo stiamo affinando le ultime cose e avremo anche booking avremo anche la ricerca senza date quindi adesso devo inserire delle date per avere un range preciso ma questione di giorni abbiamo booking e la ricerca senza date e grazie a questo io posso capire ad esempio cosa fanno i miei competitor non solo a livello di prezzi ma anche da altri punti di vista quindi ad esempio io metto questa fascia di date a roma metto numero due ospiti medley go in automatico prende i dati live da airbnb quindi non possono essere sbagliati ci mette qualche secondo e così facendo voi siete diciamo iper consapevoli di qual è il prezzo giusto da mettere allora come vedete mi ha fatto una diciamo una ricerca di mercato dove la prima fascia di dati è sul passato mi dice in media un immobile in questa zona negli ultimi 12 mesi aveva un tasso di occupazione del 70% praticamente 69,36 il prezzo medio per due ospiti in questa zona negli ultimi 12 mesi è stato di 175 euro a notte in media negli ultimi 12 mesi i ricavi che ha fatto un immobile con queste caratteristiche sono circa 28.700 euro e la stima nei prossimi 12 mesi di un immobile con queste caratteristiche in questa zona è di circa 36.700 euro cosa significa annunci con statistiche significa che di 280 annunci che analizzato adesso presi direttamente da airbnb questi dati che abbiamo visto del passato si riferiscono a 194 annunci perché sono gli annunci che esistevano più di un anno fa ciò significa che quindi 86 annunci sono stati pubblicati negli ultimi 12 mesi ed essendo stati pubblicati negli ultimi 12 mesi chiaramente non può avere lo storico di un anno perché non esistevano un anno fa mentre tutta la parte sotto è la situazione attuale quindi comprende anche i nuovi annunci che in totale me ne sta analizzando 280 adesso la mappa è un po' larga però vi sto spiegando come funziona il software dopo zoomiamo sulla via però mi dà invece tutta la situazione attuale quindi a roma bene o male i prezzi per un per questo tipo di immobili sono 154 euro a notte prezzo minimo per soggiornare tre notti è 277 euro il prezzo massimo è 1362 euro eccetera 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 ora restringo la ricerca quella che dovrebbe essere la zona dell'immobile essendo in zona vaticano e vediamo come ad esempio i dati variano ora voi per fare questo tipo di ricerca dovreste impazzire perché si parla di segnarsi mille dati fare calcoli e molti di questi dati ad esempio i dati passati voi non potete averli mentre noi sì vediamo come avvicinandoci alla zona del vaticano che è la zona del della persona che che ci ha fatto la domanda il tasso di occupazione bene o male rimane quello ma il prezzo aumenta adesso mi ha analizzato i 280 annunci perché questo airbnb purtroppo non ti fa analizzare più di 280 annunci però mi analizza 280 annunci nella zona del vaticano vediamo che in questo caso il prezzo massimo se ci focalizziamo su questo tipo di ricerca è di 16500 euro quindi c'è qualcuno che affitta il proprio immobile a 16500 euro quindi è una zona sicuramente molto interessante poi possiamo giocare con i filtri come dicevo prima per cercare di andare incontro a un criterio che sia molto simile a quello dell'immobile ora io l'immobile non lo conosco però fingiamo che abbia una camera da letto un letto un bagno ha il wifi alla cucina all'aria condizionata è una casa intera e alla vasca idromassaggio badly going automatico mi rifà la ricerca con questi con questi criteri gli annunci non sono più 280 ma sono 4 perché la vasca idromassaggio non ce l'avrà probabilmente quasi nessuno se hai la vasca idromassaggio però e tutti questi filtri in realtà il tasso di occupazione è minore quindi significa che probabilmente la gente a Roma non sta cercando immobili con la vasca idromassaggio adesso non voglio dilungarmi tantissimo però per rispondere alla domanda quindi come calcolo i prezzi un tempo facevamo la media poi siamo passati ad un piccolo plugin che però è diventato secondo me obsoleto oggi con uno strumento del genere tu puoi capire alla perfezione che prezzo fare perché sai che cosa stanno facendo i tuoi competitor poi inutile dirvi che io clicco su annunci e ho poi lo snapshot di dei singoli competitor quindi in questo caso ce ne sono solo 4 perché nella zona vaticano con la jacuzzi sono in 4 però io posso vedere che poi questo big jacuzzi loft l'anno scorso ha fatto un tasso di occupazione del 45% l'anno scorso ha fatto 48.000 euro e per queste date va fuori a 2.55 a notte posso vedere che quest'altro appartamento l'anno scorso ha fatto invece un tasso di occupazione del 23% è una rendita molto bassa quest'altro 54% e quest'altro ancora 65% poi clicchi sull'annuncio ti riporta ad airbnb e quindi puoi estrapolare anche le informazioni di airbnb quindi per rispondere alla domanda questo è come io oggi capisco che prezzo fare per evitare di essere troppo alto o troppo basso il software ovviamente ha un costo però se tu ti fai un calcolo e grazie a questo software ottieni anche solo un tasso di occupazione in un anno del 10% più alto e alzi prezzi del 10% ti sei già ripagato il software e ti sono avanzati anche soldi quindi spero di aver dato una risposta abbastanza esaustiva bene spero che questo estratto della nostra zoom call sia stato utile dentro Airbnb Academy ci sono veramente ore e ore e ore di analisi sul come fare ricerche di mercato con questi tool e non solo talvolta anche senza necessariamente dover investire in un software anche se io te lo consiglio caldamente ti ricordo che trovi altri contenuti gratuiti qua in descrizione ti chiedo di iscriverti al canale e di mettere un bel mi piace per supportare il nostro lavoro da Ludovico Cianchetta Vasquez fondatore di Airbnb Academy che ti ricordo essere l'accademia di formazione più grande d'Europa con oltre 4000 studenti è tutto ci vediamo nel prossimo video della nostra serie Affitti Brevi in 30 giorni Grazie